I Dance Zero 3, 4, 16 o 8 Permette inoltre sul canale di assegnare un effetto e poter tramite l'ampio Jogwheel comandare l'effetto Inoltre è presente un campionatore che permette di registrare e poter riprodurre e poter subito ricambiare il pezzo direttamente dall'iPod L'iPod è comandabile tramite queste altre funzioni è un'unità molto leggera si pone di due ingressi un'uscita si può mettere in borsa e andare subito a lavorare con questo comodissimo mixer questo è tutto ciao ad Alessio